Buongiorno raga, allora le mie condizioni sono quasi sempre più imbarazzanti, ma tanto è perché sto qua per studiare, no? Per fa... Avelina. Piccola parentesi perché forse lo noterete, ieri quando stavo studiando ancora a mezzanotte, mi sono tagliata le unghie con le forbici, quindi ora il mio giochino dei prossimi giorni sarà a togliere le restanti cose. Iniziamo. Come sapete sto preparando il diritto per alle due. Oltre a questo librone che io ancora non ho, ovviamente finito, avevo altre 80 pagine che parlano delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione, è una roba disgustosa. E io ieri fino a mezzanotte ho fatto da pagina 4 a tipo 60. Mi sono sentita estremamente intelligente, cioè estremamente forte come persona. In realtà sto sempre dentro la deficiente che si è ritrovata così, però vabbè. Ora quindi sono le 8 e mezza, mi metto a ripassare da pagina 4 a pagina 60. Aggiornamento delle 11 e 20, non so come sia possibile che sono già le 11 e 20, però sono andando a manetta facendo anche comunque degli schermini perché mi servono, perché sono 3000 patti specie se non c'ho un ordine mentale e poi non c'ho un ordine mentre ripeto mi perdo. Sono arrivata a pagina 27, adesso facciamo da pagina 28 a pagina 40. Vorrei ripetere altre 3000 volte ma purtroppo non ne ho il tempo materiale, quindi mi dovrò affidare del mio cervello anche se... Aggiornamento delle 13 e 20, sono arrivata a pagina 40. Schermini sinceramente spettacolari. Adesso iniziamo con la parte dopo ovviamente, che ho letto ieri sera alle 11. Iniziamo facendo da pagina 49, ne ho saltate 9, le farò poi in un altro momento, non ci interessa. Fino a pagina 58. Ore e due e mezza, io vi giuro che il tempo sta volando quando ci si diverte d'altronde. Ho finito l'introduzione dei delitti contro la pubblica amministrazione e adesso arriviamo alle fatti specie. Secondo me il mio corpo è entrato in uno stato di apatia per cui non mi fa neanche lamentare di ciò che sto facendo, devo farlo e basta. Sono le 5, inizio a non stare bene, non ho più un'identità, sono totalmente dissociata, mi percepisco come identità di genere macchina da ripetizione, cioè non so che cosa sto dicendo, cioè scusate. Sto facendo pagina 66, me ne mancano poche ma c'è una parte che sto odiando. Sono le 6, sono decisamente sfinita, ho bisogno di cambiare argomento, ho capito fino a pagina 68, ma ripeterò questa parte domattina perché adesso mi fa sale proprio lo sbocco. E ora scendo a stampare le prossime 40 pagine. Sono le 6 e mezza, ultimo caffè, 43 pagine, pizza ripiena con prosciutto fruto e mozzarella, è davvero eccezionale. Mi sono spostata a letto perché mi sono rotta le palle di stare seduta a scrivania. Sono ancora a pagina 5 perché mi sono messa a fattuto tranne che studiare, non ho più voglia, cioè 10 secondi sì e mezzo no penso di pisciare l'esame, però sono davvero piena, cioè. Raga vi giuro che ieri sono stata più brava, sono andata fino a mezzanotte, ma oggi poco non ce la fa, però magari capito almeno prendo le ricariche per domani. Non lo so, non me ne frega più niente, voglio solo darsi esame, come si dà si dà. Vado a dormire. Momento più atteso della giornata.